Buonasera, ben ritrovati. Torniamo a occuparci di Albino e lo facciamo dopo l'ultima seduta del Consiglio Comunale in cui sono stati approvati il bilancio e anche il regolamento per quanto riguarda l'applicazione dell'Imu. Vi presento i nostri ospiti in studio, diamo il benvenuto e salutiamo il sindaco Luca Carrara. Buonasera. Con noi anche Pier Giacomo Rizzi, capogruppo della lista Rizzi, sindaco degli albinesi. Buonasera. Buonasera. Salutiamo anche Davide Zanga, capogruppo del PDL. Buonasera. Buonasera. E Daniele Esposito, capogruppo della Lega Nord. Buonasera. Questi i nostri ospiti in studio. L'argomento è davvero importante, ve lo abbiamo già detto, è stato approvato il bilancio, ma partiamo proprio dal sindaco Luca Carrara. Ci può un po' spiegare questo importante documento che avete approvato? Ma in brevissima sintesi, perché ovviamente il bilancio è lo strumento più importante del Comune, quindi sarebbe molto complicato e articolato. Noi ci siamo prefissati come obiettivo, e l'avevamo dichiarato, di cercare di recuperare con questa nuova tariffa la mancata entrata dei contributi dell'anno precedente. Noi avevamo bisogno, l'assoluto bisogno, di mantenere almeno le pari risorse rispetto all'anno prima. Che non dimentichiamoci, avevano già subito un taglio del 30% rispetto al bilancio del 2010. E avete avuto un taglio di? E quindi abbiamo cercato di... Avete avuto un taglio di? Del 30%. Quindi quest'anno abbiamo cercato di costruire un bilancio attraverso le imposte che ci sono consentite e che dobbiamo necessariamente portare avanti, che è quella dell'Imu, che ci consentisse di recuperare lo stesso patrimonio dell'anno precedente. È difficile perché le regole sono cambiate, è difficile perché l'Imu non si applica con le stesse modalità dell'ICI e quindi andavano ricostruiti tutta una serie di parametri e verificati questi parametri. Sulla prima casa per esempio l'ICI portava un certo tipo di gedito che con l'Imu deve essere ricalcolato a fronte del fatto che ci sono più detrazioni. Invece di detrare 100 euro se ne devono detrare 200, c'è la detrazione dei suoi figli, quindi fino a 26 anni di 50 euro e questo ha complicato ovviamente le previsioni. L'obiettivo però è appunto quello di riuscire a mantenere le entrate per poter consentire di lavorare a pareggio sugli investimenti che dobbiamo fare o le stese correnti che dobbiamo fare in relazione ai servizi sociali e al diritto allo studio. Già abbiamo detto abbiamo subito un taglio pesantissimo nel 2010, non potevamo permetterci di andare ulteriormente a gravare su questi tipi di servizi che già sono stati ridimensionati in parte e purtroppo già l'anno scorso eravamo stati costretti a intervenire con aumenti di costo. Dato questo obiettivo le aliquote che abbiamo discusso l'altra sera in consiglio comunale che abbiamo approvato prevedono un immo al 5 per 1000 per la prima casa e una differenziazione sulla seconda casa per le case locate e quelle non locate, le locate all'8 per 1000 e le non locate al 9. Ci sarebbe piaciuto, lo dico in termini molto chiari, intervenire in termini ancora più articolati su questa fascia perché l'aliquota seconda casa va anche applicata a tutte le attività produttive e commerciali e questo ci crea notevole imbarazzo rispetto al fatto che andiamo ad appesantire ulteriormente l'intervento su questa patrimoniale e l'abbiamo definita con onestà una patrimoniale prevista dal governo Monti. Il governo Monti che ci fa fare da gabellieri, è stato usato questo termine in consiglio comunale perché gran parte dell'aliquota della seconda casa, il 3,8, deve essere trasferito pari pari allo Stato. Quindi un bilancio che è stato difficile da costruire, che cerca di essere il meno possibile invasivo nei confronti dei cittadini e che ha un segnale importante che abbiamo voluto dare che è la riduzione del 20% dell'aliquota IRPEF che siamo passati dallo 0,5 allo 0,4 fino ai 15 mila euro. Questo consente di dare un segnale ai cittadini. È un bilancio che abbiamo voluto provare a costruire confrontandoci anche con le altre amministrazioni locali del vicinato. Parlo di amministrazioni sia di sinistra, di centro-sinistra che di centro-destra. È un bilancio che abbiamo voluto provare a confrontarci per costruire per la prima volta con tutte le organizzazioni sindacali con tutte le organizzazioni sindacali e che ha trattato questo equilibrio. Poi magari Carrara le chiediamo qualche altro dato successivamente, ma continuiamo con le minoranze Rizzi. Voi come vi siete espressi di fronte a questo bilancio? Noi ci siamo espressi innanzitutto ricordando le dichiarazioni che il sindaco aveva fatto qui al mese di dicembre in cui diceva che non avrebbe aumentato di una lira Lici, a lui bastava introitare per il comune Lici che aveva introitato l'anno scorso. Bene, Lici introitato l'anno scorso è stato di 2 milioni e 250 mila euro sulle seconde case, perché sulle prime non c'erano più un trasferimento di circa 600 mila euro dello Stato per Lici sulla prima casa che non c'era. Quindi in totale 2 milioni e 8 e 50. I numeri oggi dicono che il comune introiterà 4 milioni e 200 mila euro tra prima e seconda casa che resteranno al comune, più altri 2, 4, 2, 6 che deve trasferire a Roma. Quindi andiamo a finire quasi a 6 milioni e 8, circa 6 milioni e 8 di euro. Quindi contro i 2, 8 sono circa 4 milioni di euro in più. Quindi, caro sindaco, è vero, lei dice mi crea imbarazzo, ma il suo imbarazzo a questo punto vale come le lacrime della Fornero. Insomma, la riforma del lavoro è inutile venire a piangere. Lei sa benissimo che l'aliquota che avete applicato sulla seconda casa, l'ha detto lei prima, le dovrete applicare anche alle attività produttive. E in questo momento di congiuntura andare a applicare sulle attività produttive, ai capannoni, alle fabbriche, queste aliquote, vuol dire metterle in ginocchio un'altra volta. Quindi siamo veramente fuori da ogni schema. Altre possibilità, il comune le aveva, per esempio, hanno condonato recentemente 253 mila euro di oneri a una cooperativa, potevano benissimo farne a meno e potevano far pagare unici, diciamo, inferiore. Mentre hanno applicato aliquote decisamente fuori da ogni logica. Sentiamo Zanga, poi dopo sentiremo chiaramente anche, giustamente, doverosamente, il sindaco replicare. Prego. Sì, sul bilancio ci siamo posti con perplessità e con un voto negativo, perché è tutto l'insieme del lavoro fatto dall'amministrazione, citando anche il piano delle opere pubbliche, che diventa esiguamente scarno e si limita giustamente per il periodo che è alle sole manutenzioni. Come ha ben accennato il sindaco, un taglio delle opere e un aumento dell'imposizione fiscale nei confronti del cittadino e delle aziende, che è dovuto in grande parte alla manovra correttiva di Monti sul decreto Salva Italia. Però è anche vero che il cittadino albinese è dato alle mani dalle statistiche comunque ufficiali per quanto riguarda i redditi IRPEF, i redditi dichiarati, è un gran lavoratore che dichiara cifre, il 50% dei cittadini che dichiarano il reddito supera il 26 mila euro all'anno di dichiarazione. Il taglio che è stato fatto, noi l'abbiamo definito da Ridolini, il taglio del 20%, che sembra una grande cifra dell'addizionale IRPEF comunale, che è dallo 0,5 passata allo 0,4, è uno 0,1% che comporta una minore spesa di 15 euro all'anno per cittadino. Mentre invece l'IVU va a colpire fortemente, per quanto riguarda anche la prima casa, i cittadini stessi, che oltretutto, data l'urbanizzazione, quella che alcuni suoi assessori dell'amministrazione Carrara contestano dagli anni scorsi, hanno permesso alle famiglie di lavoratori di comprarsi la casa accedendo anche al mutuo. Queste famiglie, giovani famiglie, magari anche senza figli, e quindi non hanno neanche i 20 euro all'anno di sconto del figlio a carico, si troveranno a pagare un salasso di IMU, nonostante magari sono anche essi in cassa integrazione. Purtroppo il nostro bilancio con questa patrimoniale, che ha ben definito il sindaco, non ho voluto indirizzarla più sul patrimonio, ma dimenticando che l'80% dei cittadini ha una casa, prima casa in Albino. Il resto delle seconde case sono locate e chi ci abita sovente in affitto sono lavoratori che lavorano sul nostro territorio e noi non abbiamo uno sviluppo di seconde case turistico come può essere l'Alta Valle e che allora si va a cercare di colpire il patrimonio di chi ha la possibilità, che ha avuto la possibilità di avere un ulteriore investimento immobiliare. Non andiamo a colpire le case di chi ci abita e chi ci lavora ad Albino. Esposito? Il nostro voto è stato contrario sia al POP che al bilancio. Per quanto riguarda il POP abbiamo votato contro in quanto l'intervento sul campo di calcio di Abbazia è passato da 350 mila euro dell'anno scorso ai soli 200 mila euro di quest'anno e non si sa neanche quando questo intervento verrà fatto, non abbiamo visto nessun progetto e la situazione di quell'impianto sportivo è veramente indecorosa e quindi riteniamo che deve avere un intervento superiore. Per quanto riguarda il bilancio abbiamo presentato tre emendamenti, uno dei quali proponevamo la realizzazione di un parcheggio in Valle del Luglio vicino alle poste coperto finanziariamente con una riduzione di spesa sempre nel settore viabilità e soprattutto abbiamo presentato la proposta di ridurre l'IMU prima casa dal 5 per 1000 al 4 per 1000 mantenendo ferma l'addizionale IRPEF allo 0,5, ha detto bene il consigliere Zanga ricordando che lo sconto dell'addizionale IRPEF è solamente 15 euro mentre l'aumento di un punto percentuale IMU comporterà per i cittadini albinesi secondo le stime presenti nel bilancio 86.200 euro in più di tasse e questo è un dato che è a bilancio e sfido il sindaco a contestarmelo. Primo e secondo ovviamente questo comporterà nella nostra proposta avevamo ovviamente necessità di ridurre la spesa e avevamo ritenuto opportuno eliminare un intervento viabilistico in quanto in questo momento, stante il patto di stabilità probabilmente non riusciranno neanche a realizzare quelle opere e inoltre pensiamo che è meglio che i cittadini albinesi trattengano qualche euro in più in tasca rispetto a realizzare questa opera. Allora magari ora in questo primo passaggio tentiamo di occuparci solo del bilancio mentre invece arriveremo alle opere pubbliche dopo il primo passaggio pubblicitario. Carrara, Rizzi dice che le aliquote andranno a colpire anche le attività private e Zanga e Esposito sostanzialmente contestano il fatto che forse doveva colpire l'IRPEF. Esposito ha dimenticato un terzo emendamento che è quello dei cosiddetti tagli alla politica in cui mi chiedeva di togliere tre assessorati per risparmiare i costi della politica. Abbiamo avuto una discussione piuttosto animata perché viste le vicende a livello nazionale che riguardano la Lega ma anche altri gruppi credo che sia dimostrato che i costi della politica non sono sicuramente quelli dell'amministrazione comunale di Albino ma sono ben altri. Abbiamo parlato di costi della politica Io posso fare un intervento sui costi della politica e sui risparmi che il governo dovrebbe andare a recuperare. Davide Zanga ha sollevato la questione che questo decreto che ha introdotto l'Imu è stato chiamato decreto salva Italia ed è un decreto che arriva da un governo tecnico dopo tre anni di governo PDL e Lega. Qualcuno ci ha portato a questa condizione e questa condizione andava applicata. Ci sono sindaci leghisti che ho letto che non vogliono presentare il bilancio ci sono altri sindaci leghisti che cercano di mantenere fatto salvo il principio del 4 per 1000 quindi l'aliquota minima applicabile non abbiamo applicato il 5 scusatemi quindi applicano il 4 ma poi però magari vanno ad applicare per recuperare il resto il 10,6 sulla seconda casa e sulle attività produttive. A oggi credo che questo governo che ha fatto un decreto salva Italia perché eravamo arrivati sull'olo del baratro debba necessariamente lavorare ancora tanto per metterci nelle condizioni di essere più corretti nei confronti dei nostri cittadini più trasparenti e più precisi nel darare a recuperare le risorse. Io sono convinto che se io avessi potuto fare il 10,6 per le seconde case avrei applicato il 10,6 ma le attività produttive non potevano essere colpite in questo momento in termini pesanti non potevano e non devono essere colpite in termini pesanti quindi avessimo un regolamento sul quale il governo sta ancora lavorando che ci consentiva di ridefinire in termini più di precisione l'intervento che ho definito patrimoniale e non ho nessun problema a dirlo perché è ovvio che andiamo a intervenire su quello che qualcuno ha guadagnato in altri anni. Per noi questo era il segnale che andava dato abbiamo cercato ripeto di mantenere le risorse del comune di Albino pari all'anno precedente se poi ripeto dobbiamo fare i gabellieri per lo Stato e trasferire le risorse per rimborsi elettorali che poi vanno distribuiti come abbiamo visto per mantenere perché i costi della politica recentemente avete avuto le dimissioni di un vostro consigliere regionale prende in un mese quello che io guadagno in un anno le garantisco che il mio lavoro in comune la mia responsabilità in comune l'avete detto qualcuno l'ha detto forse terzi l'altra sera non vale il mese di quel signore lì ma vale molto di più quindi queste robe qua io spero che il governo Monti con la fornero che piange o meno faccia ancora qualcosa di serio perché è questo che la gente si aspetta poi oggi ci troviamo a dire che sull'addizionale IRPEF è un segno il 15 euro ma è comunque un intervento che il cittadino vede nelle sue tasche immediatamente sul suo stipendio da subito l'Imu è uguale ma scusate ma l'Imu è uguale ma abbiamo visto e ve l'abbiamo dimostrato che su alcuni appartamenti lo 0405 per il 5 non cambiavano di chissà quale stravolgimento per la casa è ovvio che è una imposizione che avremmo voluto evitare è ovvio che vorremmo e l'abbiamo dichiarato in relazione di bilancio che tutti i soldi intascati su questo tipo di tassa restino nel comune di Albino e possono essere investiti sul comune di Albino è ovvio che il nostro bilancio prevede un piano delle opere pubbliche che è pari a zero quest'anno col saldo attivo di patria di stabilità che dovrebbe essere circa circa ci dovrebbe consentire circa una spesa di 700 mila euro l'anno scorso voi avete detto che non avete visto opere per un milione e sei certo si viveva meglio da sindaci quando si poteva intervenire su interventi e spese molto più consistenti allora dobbiamo fermarci a secondo per una breve introduzione pubblicitaria ci sono i consiglieri di minoranza che chiedono parola ma devo rinviarli a dopo tra poco rieccoci in onda ci stiamo occupando di Albino dopo l'ultima seduta del consiglio comunale abbiamo appena sentito il sindaco Luca Carrara replicare alle minoranze ma c'è una contro replica dei consiglieri Zanga che chiedeva parola per primo si a me spiace che un sindaco stimato come Luca Carrara di area socialista si ritrovi in una trasmissione televisiva come un consiglio comunale a sostenere tesi dei suoi compaesani che militano in giunta con lui di sinistra riferendosi ai tre anni del governo precedente al governo Monti vorrei chiedere al sindaco se ha mai visto finanziare le casse integrazioni se ha mai visto gli assegni di mobilità la questione degli esodati che adesso è sulla stampa che Monti vuole tagliare e quindi quei soldi calando la produzione beccando la piena crisi del 2008 che si sta protraendo fino ad oggi la crisi finanziaria dei bond americani e che oggi si è trasferita all'economia reale già da un paio d'anni l'abbiamo pagata tutti noi quindi il governo Monti che doveva essere un governo tecnico che doveva gestire la questione di salvare l'Italia la sta affossando definitivamente rimaniamo più sul locale però certo però ha fatto una dietrologia per giustificare l'EMU una cosa che ha fatto? dietrologia parlando del governo Berlusconi mi è stato chiesto di applicare delle tariffe sì dal governo Monti che anziché tagliare lo spreco che c'è in Italia va a applicare ancora nuove imposte questo è una linea che è lì che è evidente scusi che partito rappresenta lei? PDL ah ecco no perché mi risulta che il governo Monti in questo momento sia sostenuto da PDL oltre che da una comprensione oltre che da PD e da sinistra certo Rizzi si può anche risentire qui la stanno buttando sulla politica nazionale però ecco io dico il comune poteva benissimo ottenersi a quelle che sono le aliquote minime il 4 per mille e il 7,6 per mille nessuno li obbligava a applicare aliquote maggiori quindi se il sindaco voleva rispettare la promessa che aveva fatto è ben sapendo quello che era il patto di stabilità perché non è che l'ha fatto in un momento in cui non sapeva quant'era diciamo l'avanzo che dovevano avere per rispettare il patto ma al di là di quello io ricordo al sindaco che adesso hanno stabilito le aliquote però lo sapete tutti che c'è in programma di pagarle in tre tranche l'aliquota almeno sulla limu sulla prima casa e sicuramente in due come era prima sulla seconda casa io mi aspetto che da qui a dicembre tirino fuori il governo tiri fuori il discorso delle rendite a metro quadro lordo che non sono da inventare o da fare e per cui ci vorranno degli anni sono nei cassetti del catastro dal 1989 le rendite a metro quadro lordo probabilmente le aggiorneranno in funzione degli anni che sono passati e se rimarranno le aliquote che hanno stabilito perché non si possono più cambiare una volta stabilite le aliquote inizio anno saranno veramente salassi per le famiglie non solo di Albino ma anche quelle che avranno le aliquote figuriamoci noi che abbiamo applicato aliquote maggiorate poi per rispondere al sindaco in merito al discorso dell'impegno di un sindaco rispetto a un consigliere l'ho fatto anch'io il sindaco per 5 anni ho fatto 9 anni da vice sindaco e ricordo che ero in comune 24 ore al giorno si può dire perché è un sindaco a disposizione anche di notte ero in aspettativa e non facevo la professione come lui fa quindi non si lamenti dalle ore che passa in comune qualcun altro ne ha passate molte di più parlavo di costi e non e non e non erano al di là del periodo delle vacche grasse come voi dite lo stipendio del sindaco li ha sempre perché quindi voglio dire l'impegno c'era però abbiamo visto che c'erano le vacche grasse anche le opere ma lei manterrebbe quindi uno stipendio di 15 mila euro in consigliere regionale io era questo che intendevo dire io era solo questo lei manterrebbe 15 mila euro di stipendio in consigliere regionale non parlo di quelli che ci sono dimessi recentemente ma ecco credo che i costi della politica non siano gli stipendi pagati né ai consiglieri né agli assessori né ai sindaci a prescindere dall'appartenenza politica dico lo spreco in politica è da tutt'altra parte esposito? si due cose la prima premetto che nell'emendamento non abbiamo parlato di costi della politica ma di eliminazione degli assessorati secondo luogo il sindaco dice per quale motivo scusi? perché abbiamo avuto una discussione in commissione economia abbiamo ritenuto opportuno modificare ma per quale motivo è eliminabile degli assessorati? perché riteniamo opportuno che riteniamo che il comune di Albino attualmente possa essere gestito dai quattro assessorati più il sindaco anche perché in futuro sarà così quindi per legge dovrebbe essere così anche perché di opere ne stanno facendo talmente che ne basterebbero due basterebbe il sindaco solo una comunicazione facciamo completare esposito ma solo per dare un'informazione stamattina è arrivata una comunicazione che abbiamo vinto un altro bando per un finanziamento della biblioteca seguito personalmente da uno degli assessori contributo a fondo perduto di 59 mila euro quell'assessore si è pagato i cinque anni di mandato ma non è il primo che vinciamo bisogna avere persone che li seguono che li cercano che motivino i dipendenti e che siano in grado di gestire queste cose qua ripeto chi ha voluto fare quel taglio dei consiglieri Albino sarà davvero squallido che possa essere rappresentato da un consiglio comunale con solo 16 persone Albino ha 18.700 abitanti a 9 frazioni e pensare che gli interventi ipotizzati da qualche governo recentemente passato abbia pensato di andare a recuperare dei costi italiani i consiglieri e gli assessori è vero che c'è un testo di legge che ci prevede in questa direzione è una vergogna l'altra questione era il sindaco ha ragione a dire che risparmieranno 15 euro in un anno quindi poco più di un euro al mese però non dice che pagheranno di più di IMU ci sarà qualcuno che probabilmente pagherà di meno però nella media sono 86.000 euro in più che qualcuno dovrà tirare fuori e questo secondo noi è sbagliato far pagare perché l'operazione può dire quello che vuole farà sì che qualcuno pagherà di più e ovviamente saranno i cittadini albinesi allora Carrara che deve replicare anche un po' queste cose guardi io ho fatto il pieno in macchina dalla macchina l'ho pagato 110 euro un anno fa lo pagavo 70 euro ok in una settimana 10 giorni che è il consumo meglio della macchina anche per usi di lavoro eccetera mi sono trovato 40 euro in più cioè questi questo è un problema cioè se vogliamo andare a intervenire dobbiamo intervenire nel modo tale che l'Italia possa ripartire hanno fatto un decreto salve Italia e hanno rimesso l'IMU e hanno ci hanno imposto a noi amministratori locali di far applicare l'IMU ci dobbiamo mettere la faccia 4 e 7 e 6 ci dobbiamo mettere la faccia certo 4 e 7 e 6 poi però ti tagliano i contributi dallo Stato per altri finanziamenti le ripeto Rizzi e lei lo può tranquillamente dimostrare immediatamente noi abbiamo fatto un lavoro per avere le stesse entrate dell'anno scorso se ho detto che facevo riferimento all'ICI ho sbagliato io ho fatto riferimento al fatto che il nostro bilancio doveva avere un'entrata pari almeno a quella dell'anno scorso trasferimenti dello Stato trasferimenti completi per mantenere i servizi sociali perché stiamo parlando di spesa corrente Zanga non stiamo parlando di costi di investimento è anche ora di finirla finirla di far pagare con gli oneri di urbanizzazione la spesa corrente quindi abbiamo costruito un bilancio che va nella direzione di mantenere una spesa corrente tarata a un livello decoroso decoroso che non vorremmo portare sotto che però si rivolge alla spesa corrente dobbiamo smetterla di pagare su spesa corrente con oneri non esiste più un grandissimo mercato immobiliare c'è ancora qualcosa per fortuna che va avanti che funziona ma quel tipo di entrata deve essere rivolta a investimenti non può pagare spesa corrente l'ha fatto la precedente amministrazione l'abbiamo fatto noi nei primi due anni perché diventava impossibile oltre al taglio del 30% sostenere subito questa roba qua sarà un obbligo di legge fra non molto fra non molto perché poi anche questa roba qua è una di quelle che continuano a spostare costantemente ma oggi questo era il nostro obiettivo avere la possibilità di mantenere i servizi sociali e le spese soprattutto per il diritto allo studio sullo stesso importo l'anno scorso tornando ai costi della politica un'altra delle robe tengo a precisare che questa amministrazione ha mantenuto un taglio del proprio stipendio del 30% con un contributo circa quindi lasciato alle casse comunali di 30.000 euro di 30.000 euro che non siamo dei santi ma ci interessava anche in questo caso nell'ottica proprio di avere un segnale di costi della politica ribadire anche questo aspetto però c'è la zaga che chiedeva parola mi sembra però anche dalla parola del sindaco che ha riferito prima quando dice del patrimonio che va a colpire la questione di chi ha guadagnato prima ha detto così testuali parole cioè sulla seconda casa ad Albino affittata a chi ci lavora ad Albino che ci abita e non che la usa per ferie che sono pochissime le case ad Albino usate per scopo turistico succederà che subito nell'imminenza i contratti di affitto che andranno rinnovati aumenteranno e aumenteranno a carico del povero lavoratore ancora di Albino perché non ho mai visto nessuno rimetterci o andare ad affittare un immobile col rischio degli insoluti dei pagamenti di quant'altro andare a affittare per pagare l'Imo al comune di Albino quindi questo processo si ripercuote ancora a catena sul cittadino albinese e non credo che sia questo il decreto salva Italia questo per me il decreto fosse Italia faccio un inciso a noi la segreteria nazionale ci ha chiamato a meno a tutti e tre i consiglieri di Albino a chiedere cosa pensavamo dal governo Monti noi abbiamo detto che siamo tutti con sguardo pessimistico a quello che sta facendo e non abbiamo vergogna a dirlo in televisione neanche nelle sede di partito è una convinzione perché chiedono sempre lo stesso di pagare anche col discorso della Cisa ha fatto un bel esempio anche il sindaco però noi ci troviamo ad Albino ad avere delle entrate maggiori per dopo io chiedo al sindaco per che cosa per regalare 250 mila euro anche una cooperativa su un progetto senza avere un patrimonio dopo entreremo nel dettaglio anche di questo se volete entrare non ho nessun problema però non dovete confondere le pere con le mele ritorniamo al discorso di prima spesa corrente investimenti non confondere le cose per l'ennesima volta perché altrimenti la gente non riesce a capire se tu riduci l'IMU aumenti i costi degli impianti sportivi se tu riduci l'IMU aumenti i costi del trasporto scolastico se tu riduci l'IMU aumenti i costi della mensa perché comunque stiamo parlando di spesa corrente non puoi parlare di 250 mila euro di oneri che dovrebbero andare in investimento allora mi dici 250 mila euro potevi realizzare il parcheggio i tre anni che frequenti il consiglio comunale questa distinzione è chiara se tu riduci l'IMU se tu riduci l'IMU mancano delle entrate su spesa corrente che vuol dire incrementare i costi da qualche altra parte sul trasporto scolastico sulla mensa sugli impianti sportivi perché è spesa corrente le entrate da oneri sono spese di investimento l'ha detto giustamente Rizzi prima quest'anno il comune non era obbligato a non usare spesa corrente era meglio incassare gli oneri e dedurre quella parte di oneri dalla spesa corrente per ridurre l'IMU visto che non è ancora stabilito il decreto non è obbligatorio quindi potevamo chiedere meno mettere meno le tasche le mani nelle tasche dei cittadini probabilmente questa amministrazione ha tutta un'altra logica c'è Sposito che chiede parola nel nostro emendamento in cui proponavamo di ridurre l'IMU infatti non veniva ridotta la spesa corrente veniva eliminato un intervento di investimento e gli oneri per quest'anno per quella quota di 86.200 euro venivano destinati a spesa corrente hanno detto bene i miei colleghi di minoranza quest'anno potevamo farlo e secondo me doveva essere fatto Carrara sì no io ho apprezzato moltissimo l'intervento del consigliere Terzi che non è dal gruppo di maggioranza che ha detto io invece sono contrario a rinquentare a quell'intervento perché è ora di finirla che gli oneri di urbanizzazione vadano su spesa corrente ripeto Terzi ha fatto parte di una maggioranza che in un momento comunque anche di entrate di oneri significativi ma guardi che è una scelta che posso anche dire poteva essere condivisibile perché comunque stiamo parlando di una possibilità che veniva concessa che andava nella direzione di tenere bassi alcuni costi oggi non è più ammessa ci saremmo trovati a dover ribaltare la gente dalla sera alla mattina con dei costi incredibilmente incrementati perché i trasferimenti stanno diventando sempre di meno e la gente si aspetta comunque dei servizi lei frequenta le società sportive sa che noi abbiamo una delle tariffe più basse in assoluto nell'ambito di valle era una scelta che purtroppo purtroppo non ci possiamo più permettere questo è il quadro ridurre l'imu alle aliquote di legge minime non ci avrebbe garantito rispetto al mantenimento di questi servizi se non incrementando notevolmente i costi mi sarei trovato lei esposito dalla veste della società sportiva che si sarebbe lamentato perché si sarebbe trovato che i costi dei campi o dalla palestra raddoppiavano esposito continuo a dire che noi non toccavamo spesa corrente quindi questi costi non devono essere toccati bastava rimandare di un anno l'opera che avevamo individuato punto quindi non c'era un aumento per quest'anno di queste tariffe come sta dicendo lei torniamo sempre al solito discorso che io vi rifaccio da tanto tempo in piano quando noi facciamo una programmazione degli interventi esposito quando noi facciamo una programmazione degli interventi sono tutti contestabili io adesso se voi vogliamo parlare della ripa o possiamo parlare di San Bartolomeo uno in questo momento potrebbe dire 600 mila euro di investimento su una chiesa perché l'avete fatto in un momento di crisi come questa ne parlavo stamattina con un signore che è venuto a visitarla recentemente fuori di Albino straordinaria mi dice bellissimo questo intervento certo adesso è finito il periodo di fare queste cose qua ecco noi l'investimento sulla ripa crediamo che invece possa essere altrettanto significativo altrettanto riteniamo che possa essere altrettanto significativo e importante anche dal punto di vista economico anche dal punto di vista economico anche dal punto di vista turistico anche dal punto di vista imprenditoriale per il nostro ambito di valle lo stesso investimento di San Bartolomeo l'investimento sul campo sintetico sono scelte lei giustamente la consigliere Zanga critica spesso l'intervento della valle del Luio la pista ciclabile era un intervento che ritenevamo importantissimo che avete tutte le ragioni parte tra virgolette monco parzialmente monco perché manca la fetta del ponte ma che si è fermata non per colpa nostra perché noi l'abbiamo appaltato il ponte Rizzi noi l'abbiamo appaltato noi il ponte l'abbra visto scusi lei l'ha appaltato e i professionisti non si erano accordi che c'erano i rifiuti e anche la San Bartolomeo chi vi ha lasciato lì i soldi chi vi ha lasciato lì il progetto erano standard qualitativi quelli lì non potevamo più tirarvi indietro ma che cavolo no 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 potevamo tranquillamente tirarsi indietro perché guardi lei ci ha lasciato anche il parco sul tetto del Val Seriana Center lo abbiamo messo da qualche altra parte stendiamo un velo pietoso eh sì direi che ogni tanto varrebbe la pena di capire che su alcune scelte hanno appaltato il ponte adesso cavoli avete scoperto che c'erano i rifiuti dopo che avete fatto i sondaggi sì ma l'apparto era partito però ah ecco l'apparto era partito però c'è anche fermato c'era un esposto anche alla procura di chi aveva fatto i sondaggi ah non lo so se non lo sa lei comunque sindaco ma è vero o no che in consiglio comunale avete detto che in giunta avete sospeso l'opera che noi proponevamo di eliminare no io ho detto che non l'abbiamo deliberata perché l'ufficio ci era mandato come versione definitiva e io ho detto che l'avrei voluto prima portare a commissione territorio è definito perché lei vi siete dimenticati che l'avevate già visto una volta ma ho detto prima di deliberarlo come versione definitiva di questo progetto preferisco che faccia un altro passaggio in commissione territorio quindi abbiamo semplicemente sospeso la roba ma per noi quei tre interventi sono prioritari vedremo quando li faremo quando li faremo dipenderà da quando ci verrà costituito di farlo ma come lo sostiene lei l'ho sempre sostenuto io il patto di stabilità così come è strutturato è una vergogna che spero il governo tecnico modifichi allora signor dobbiamo fermarci un secondo per una breve interruzione pubblicitaria ma torniamo subito ultimo passaggio di questa trasmissione già lo sapete ci stiamo occupando di Albino vorrei continuare con il sindaco Luca Carrara è chiaro che in una situazione economica simile non ci si può aspettare molto dal piano trenale dalle opere pubbliche è stato definito prima noi abbiamo fatto un pop tra virgolette di protesta nel senso che tranne che alcune opere che diventava indispensabile anche solo evidenziarle per poter partecipare a dei bandi per il resto oggettivamente è improponibile in questa fase con quello che è il tetto di spesa e con le opere che abbiamo ancora in arretrato che siamo consapevoli che abbiamo in arretrato ma perché se il tetto di spesa e l'ho detto provocatoriamente ieri chi insiste a dirci che dovremmo fare più opere dovrebbe anche dichiarare che il comune di Albino deve uscire dal patto di stabilità e non rispettare le regole che il governo ci ha dato perché i soldi che abbiamo speso sono quelli che ci era stato consentito di spendere e credo che li abbiamo spesi per opere urgenti che andavano assolutamente nell'evidenza di rispondere alle esigenze abbiamo un sacco di opere in programmazione alcune già in fase di definizione altre già definite pronte per essere appaltate alcune opere già appaltate ma che sono praticamente in stallo quindi le opere sono lì a oggi non ci è consentito di spendere i nostri soldi che significa semplicemente che andiamo con i soldi che sono entrati a estinguere mutui non è quello che ci si aspetta da un governo tecnico che voglia risollevare l'Italia e in questo condiviscono la posizione di Zanga abbiamo fatto un primo intervento ed era necessario l'hanno fatto ci hanno imposto di farlo ed era necessario oggi vanno tagliati i costi della politica vanno tagliate delle spese dove sono superfule e va consentito ai comuni di spendere i soldi quando sono comuni virtuosi e li possono spendere perché comunque rifarebbe partire il mercato l'unica cosa che ci è consentito di fare è partecipare a bandi abbiamo appaltato e lo sanno i consigli di minoranza l'intervento importantissimo alle solari per 1.200.000 euro con 600.000 euro di contributo e fondo perduto abbiamo partecipato a un bando per la riqualificazione della biblioteca piano terra l'abbiamo saputo stamattina abbiamo ricevuto un fondo a corto di 59.000 euro ne mancano 35 che dobbiamo metterci noi abbiamo partecipato a un bando della strada verde contributo a fondo perduto del 90% noi quello che possiamo fare è questo cercare i soldi cercare i soldi e metterci la quota a parte che ci manca abbiamo un sacco di opere necessarie sulla viabilità mi vergogno quando vedo il mio vicino di casa signor Zanetti che è un costode che tiene San Rocco in maniera straordinaria ma in questo momento l'investimento su quella strada non c'è consentito non c'è possibile farlo vedo i cittadini che vengono a sollecitare interventi sulla viabilità abbiamo fatto alcune cose alcuni interventi su bondo abbiamo fatto alcuni interventi su comenduno ma ci restano altri tanti altri interventi che sappiamo essere di emergenza ma che non ci è consentito di farlo non piango dico semplicemente prendo atto che o si rispettano le regole e si gioca con queste regole o si esce dalle regole Fassino lo dicevo l'altra sera in consiglio comunale ha dichiarato che piuttosto che far fallire le sue aziende è uscito dal patto di stabilità in termini pesanti e si pagherà le sue sanzioni io ero presente in quella serata con il sindaco di Bergamo ci siamo guardati e vi hanno detto noi in questo momento siamo nelle condizioni di doverle rispettare è chiaro che non è una situazione sostenibile ancora per moltissimo tempo Rizzi il sindaco ha parlato ma non ha parlato del pop io dico solo una cosa visto che loro si preoccupano quello che ha detto di portare a casa i finanziamenti che ci sono ma le sembra logico se io quest'anno ho rifatto questo pavimento perché aveva necessità di essere rifatto e poi esce un bando che mi da costa 100 mila euro a rifarlo ma mi ne da 70 vabbè allora l'anno prossimo porto a casa quei 70 e lo rifaccio però non devo aggiungere 30 di tasca mia le sembra logico che io vada a fare una strada verde perché il GAL finanzia 140 erotti mila euro ma costa 200 e io di tasca mia ce ne devo mettere anche altri 20-30 che mi portano fuori dal patto di stabilità se li spendo lì non posso tappare le buche devo vedere qual è la priorità delle opere a me fare la strada verde in un comune di Albino non era certamente una cosa prioritaria palco dell'auditorium anche lì portano a casa un finanziamento però devono fare un free di 76 mila euro che va rimborsato un finanziamento a fondo perduto di 25 mila euro ma era così necessario punto di domanda era prioritario quanto meno quindi le due opere che fanno quest'anno non l'ha detto lui sono un appunto quel palcoscenico dell'auditorium che abbiamo inaugurato 4-5 anni fa il proscenio non so cosa faranno lo vogliono adattare a far diventare da auditorium in teatro quello vogliono fare e fanno gli spogliatoi ad Abbazia per 200 mila euro ma per far questo non ha detto che vanno a fare l'alienazione di una proprietà comunale che è il bar del mercato devono fare noi avevamo fatto un emendamento programma opere pubbliche dicendo non vendete ma utilizzate gli oneri e facevamo riferimento sempre a quei 273 mila euro di oneri 253 mila euro che hanno abbonato però voglio dire vanno a fare opere come lì devono fare gli spogliatoi però c'è là il campo di calcio che è prioritario per me rispetto agli spogliatoi prima faccio il campo come si deve e dopo faccio gli spogliatoi se no fare gli spogliatoi nuovi avere un campo in terra battuta magari con l'acqua che ristagna eccetera non ha senso come la pista ciclabile che hanno fatto visto che si riferisce a cose del passato hanno detto che hanno fatto un po' di protesta hanno fatto un po' di protesta perché noi tutti gli anni chiamavamo il loro pop libro dei sogni e adesso hanno messo dentro 300 mila euro di manutenzioni per il 2013 e 300 per il 2014 di fatto non hanno fatto il pop allora Zanga e poi Esposito poi torniamo da Carrara allora intorno di polemica quando hanno presentato il pop in consiglio comunale abbiamo detto che è passato dalla definizione dei rizi del libro dei sogni al libro di Vanna Marchi perché presentavano delle opere che alla fine non si sono rilevate sul territorio cosa succede che il comune e questo non è che si fa una colpa al sindaco siamo di minoranza ma non siamo stupidi vediamo che le difficoltà ci sono e che le risorse sono carenti però se uno ha 100 da spendere dipende cosa va a destinare quei 100 allora hanno messo il semaforo l'impianto semaforico in un incrocio della via lunga che tutti i cittadini della valle del Lui sono incazzati per quel semaforo che è rosso quando non ci sono nessuno negli incroci chiedevano di decelerare il traffico adesso c'è la colonna alle 8 della mattina hanno messo degli speed check che sono costati anche quelli qualche decina di migliaia di euro nei posti che la gente non capisce perché in un punto dove a 50 all'ora è impossibile andare nell'angolo di una strada dove si va a 30 all'ora perché a 40 si esce di strada e c'è uno speed check si fa la pista ciclopedonale per un milione e cento per 700 mila 700 metri un tratto monco e dopo si va a finanziare col discorso come diceva giustamente Rizzi il sentiero verde allora o sistemiamo i sentieri verdi li facciamo tutti e lo sistemiamo bene che può essere anche un punto di rilancio dal punto di vista turistico di Albino o se no passare in 700 metri mancano ad esempio assurdità scuole medie di Abbazia mancano 200 metri di marcia a piede pericoloso ci sono i ragazzini che escono da scuola passano i pullman autocarri è una provinciale non è una ex è la strada provinciale 39 quella che fa il passo del collegallo passano i ragazzini e gli manca marcia a piede e facciamo la pista ciclopedonale per noi ci sono delle priorità e per noi ci sono delle priorità che vanno in direzione specialmente a un periodo di crisi come questo per dare dei aiuti su opere che necessitano robe della festa la festicciola e la gitta e così via anche perché sembrano un atteggiamento contraddittorio si vuole colpire le seconde case e poi andiamo a fargli le stesse cose ma è giusto portare a casa i finanziamenti ma che coprano in toto la spesa a quel punto di vista allora anche se è inutile vabbè mi scusi per esempio solo un secondo la strada verde è quindi un bel progetto Zanga o è un brutto progetto? la strada verde magari ti ha detto non serve a niente a parte che è coperta al 90% fatta così non serve a niente è un anello la strada verde la strada verde finanziata in toto che collega i sentieri di quota non in toto ignoranza in questo caso che dicono una serve interessante riqualifica turisticamente è un secondo l'ho detto così la gente non ha capito bene non ho capito bene io no sindaco ho detto e ribadisco che lei prima cosa vuoi vedere il progetto della strada verde perché vanno a fare dei pezzetti della strada verde non è un anello completo non è un anello completo ma si collega magari alla pista ciclabile che quindi non resta un anello monco che si collega quindi è un pezzo completo si collega magari al tratto della pista ciclabile che così non resta un anello oggi il progetto definitivo per farlo no 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 il progetto definitivo è stato spiegato otto volte anche l'altra sera esiste ed è finanziato siamo in attesa solo solo l'hanno visto anche tutti i cittadini perché abbiamo dovuto fare tutti i buoni accordi prima di poterlo presentare è un bando europeo e quindi di dettaglio esecutivo quindi tutti i cittadini coinvolti sono stati informati hanno dovuto già sottoscrivere tutte le autorizzazioni se non avremmo neanche potuto partecipare non ricevere il contributo è un anello completo di quota con interventi che vanno dal ripristino al taglio alla segnaletica al rifacimento al rifacimento di alcuni serramenti parliamo di un'opera di due anni fa allora vorrei anche sentire Esposito Esposito grazie allora il mio intervento sarà sul campo sportivo di Abbazia secondo me l'amministrazione ha sbagliato l'anno scorso a stralciarlo dal pop in quanto era previsto un intervento di 350 mila euro e quest'anno l'hanno riproposto solamente 200 mila euro ci sono 150 mila euro che non mancano che sono quelli che erano previsti per la copertura del sintetico quella struttura necessita in primo luogo un intervento sia sul campo che sugli spogliatoi per riqualificarlo gli spogliatoi stanno cadendo a pezzi veramente agibile ce n'è uno primo luogo purtroppo però qual è la loro previsione sistemiamo gli spogliatoi ma non le costruiamo in muratura sistemiamo quelli che ci sono sinceramente vorrò vedere cosa uscirà perché quegli spogliatoi veramente sono lì che cadono a pezzi da quanto tempo esistono quegli spogliatoi esposito? allora in quella posizione sono lì da quando è iniziato l'intervento sulle palestre di Abbazia quindi 4 anni c'è ne sono due nuovi che hanno 4 anni e sono stati demoliti due di quelli sono invece più antichi in quanto erano posti a diore quanto sono costati e chi li ha comprati era l'amministrazione precedente e chi li ha usati e doveva essere una soluzione esposito le abbiamo detto più volte che purtroppo le cose vanno anche tenute in un certo modo lì c'è una corresponsabilità di un po' di tutti mettiamola in questi termini per essere eleganti abbiamo fatto un investimento rilevante per collocare lì delle strutture che sembravano dover essere in precario rispetto all'intervento su Abbazia ma che chiaramente erano già costate una certa cifra significativa e lei lo sa benissimo le abbiamo un po' trascurati noi come amministrazione magari nella manutenzione ma anche gli utilizzatori perché quelle strutture lì non sono fatte per durare due anni non sono fatte per durare due anni e se si smontano si spaccano a quel modo ok qualcuno probabilmente ha anche un minimo di responsabilità nell'utilizzo sul campo abbiamo fatto un ragionamento insieme più volte era ipotizzabile un intervento complessivo che abbiamo sospeso per motivi economici ma anche per motivi di utilizzo quasi tutti i campi sono in terra battuta quelli di allenamento quasi tutti i campi sono in terra battuta quindi è ovvio che va sistemato il fondo e quindi si sta ritarando l'intervento per quelle che sono le funzioni e l'utilizzo di questo momento di quella struttura che è per due allenamenti giusto per tre allenamenti di due squadre della Valle del Luio si spera di potenziarlo è comunque una struttura comunale vogliamo rimetterla nel decoro però ecco vanno tutte tarate le cose per quello che devono essere io voglio vedere come faranno a rilanciare quella struttura tenendo conto che il Rio Re è sintetico mentre Abbazia ovviamente è in sabbia è ovvio che una squadra preferisce allenarsi e giocare sul Rio Re se invece si voleva riqualificare veramente quella struttura si poneva allo stesso livello del Rio Re e probabilmente qualche altra società sportiva sarebbe andata lì a allenarsi e giocare non so se gli altri consiglieri vogliono aggiungere qualcosa i due spogliatoi nuovi è stato l'ultimo atto della mia amministrazione non della sua amministrazione finanziato dalla mia amministrazione tant'è vero che in commissione l'altro giorno il suo consigliere di maggioranza e adesso qui il sindaco ha detto la responsabilità un po' di tutti perché non è stata fatta la manutenzione di chi li ha usati che ha spaccato e ha rotto il suo consigliere ah i fa ipotai beh che adesso è a modemoli e guarda me io ho spostato quelli che c'erano di qui alle medie e li abbiamo spostati di là del luglio e in più abbiamo fatto questi due nuovi quindi e secondo lei Rizzi è normale che siano demoliti? no ah basta a me basta che lei dica questa cosa qua non è normale che siano demoliti quindi qualcuno ha delle responsabilità ma non certamente io neanche lei bravissimo siamo contenti in due stavolta abbiamo trovato una volta tanto un accordo tra Rizzi e Carrara ma glielo dite al suo consigliere però comunque Carrara questo piano delle opere pubbliche 2012 2013 2014 come lo descrive con due parole? io dico solo questo che non abbiamo accennato questa roba qua ne abbiamo parlato in altre occasioni abbiamo un'opera importante che spero tocco ferro come si suol dire perché che è no 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 la scuola di desezionale Comenduno ok quello è un bando di leasing anche se è scritto solo Comenduno sul bilancio sul bilancio è scritto Comenduno perché la direzione didattica ha in mente un suo trasloco fatto a modo suo che dovremo discutere nel dettaglio ma è un intervento importante che è consistente è stato assegnato il leasing dovremo firmare il contratto definitivo perché il progetto definitivo è approvato stanno già realizzando l'esecutivo ci hanno garantito la partenza entro la primavera entro la primavera proprio per essere pronti visto che il bando prevedeva anche dei tempi di consegna molto ristretti e l'impresa li ha dichiarati in 365 giorni quindi speriamo che questa struttura davvero l'anno prossimo possa essere pronta e consegnata per la scuola di Comenduno io l'incontro l'ho fatto anche con gli insegnanti di Desenzano e il trasferimento e il dimensionamento di quella scuola sicuramente dovrebbe essere per Comenduno di Desenzano se c'è ancora qualcuno che vuole aggiungere una cosa Zanga si parla di soldi pubblici si parla di precarietà dei soldi questa amministrazione dopo tre anni dal PGT va a rifarlo con rifacimento del progetto lo stesso col Polino definito dal suo assessore alla cultura nel Polo è diventato Polino scolastico quindi gettato un progetto rifatto per l'amor di Dio uno cerca anche di adattarsi sui panni sindaco perché non è fa comodo che c'è la crisi da una parte però dal resto quello che si vuole cambiare lo cambiamo quindi tutto qui ultima parola sindaco siamo convintissimi che il piano di governo del territorio per alcune scelte e in alcune aree importanti andava assolutamente rivisto completamente rivisto quindi non abbiamo sprecato nessun soldo per quanto riguarda la scuola ne abbiamo già pagato più volte ripeto era stato fatto un concorso di idee andava assegnato il progetto e quindi noi non abbiamo fatto nessun costo aggiuntivo abbiamo dato l'incarico del progetto preliminare a uno studio che non è quello che ha vinto il bando ma avremmo dovuto pagarlo pari pari il concorso aveva dato un esito ma dal concorso non esisteva un progetto che poteva andare in gara visto che c'è la richiesta di nuovi lotti inseriranno nuovi lotti nuova IMO almeno potranno finanziarsi io sono convinto che anche su questo se mi consente la battuta le aliquote IMO per quei pochi che resteranno dentro probabilmente dovremo integrarli perché sono convinto che moltissime persone verranno a chiederci di togliere il lotto edificabile bene abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione ringrazio i nostri ospiti in studio Riccardo Ravec in regia e tutti voi per la vostra gentile attenzione grazie buon proseguimento di serata a tutti